Stasera sono uscita di casa veramente tardi ma la cosa bella dalla Corea è che i negozi sono ancora aperti Infatti oggi direzione Daiso che è una sottospecie del nostro primer Si possono trovare veramente tante cose a pochissimo prezzo a partire da questi peluche Poi ho trovato anche queste bellissime pochettine super pucciose e carine Ovviamente tantissima skincare e makeup dei brand che non conoscevo e vi dico la verità non mi ispiravano Ho deciso di scendere nel piano inferiore dove il reparto era ancora più grande e là letteralmente non sapete più dove guardare Ho trovato delle cose molto carine come questi notebook che costavano tipo 50 centesimi Li volevo prendere per l'università ma alla fine mi sono trattenuta Non so perché ma in Corea in qualsiasi negozio voi entriate c'è sempre il cibo e questi pupazzetti super carini Poi ho trovato questo koala ma ho 23 anni quindi l'ho lasciato là e alla fine il negozio stava chiudendo Quindi siamo usciti a mani vuote